Nuotata fuori programma per due ventenni finiti all'alba nelle fredde acque del Bacchiglione. Erano circa le 6.30 quando i due giovani, a bordo di una Ford Fiesta, hanno perso il controllo del veicolo lungo una strada arginale nel comune di Ponte Longo. I due, residenti a Rosolina in provincia di Rovigo, erano diretti per lavoro a Padova. Grazie alla loro agilità i ventenni sono riusciti a saltare fuori dall'auto che stava andando a fondo e a mettersi in salvo sulla riva, allertando subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che stanno cercando di stabilire le cause dell'incidente, forse dovuto all'inesperienza del giovane alla guida. A recuperare l'auto dal fiume Bacchiglione ci hanno pensato i vigili del fuoco.